Bagnaia domenica pomeriggio, rispondendo a una domanda sulla sicurezza e sui tanti incidenti ha ricordato l'era dei Fantastici Quattro, sottolineando però il divario che c'era tra le moto ufficiali e quelle dell'Independent Squadre. La nuova precisazione di Bagnaia Bagnaia oggi ha chiarito quello che è stato pubblicato e fuori contesto per l'interpretazione che ne hanno dato alcuni. Detto questo prima non accadeva. Penso che ci fossero meno contatti anni fa perché c'era una grande differenza tra i top rider e i altri. Bagnaia punta il dito anche contro il sito ufficiale della MotoGP dopo la soffitta mi sono disconnesso per tre giorni, senza telefono, e quando mi sono ricollegato ho visto la polemica che si era generata con Poncaral, ingigantita dal sito ufficiale del campionato. De Snowpalla è diventata sempre più grande quando non ho fatto nessun commento per creare polemiche.Al contrario, sono consapevole è una questione molto seria come la sicurezza.Purtroppo stiamo entrando una dinamica in cui c'è chi preferisce cercare la polemica piuttosto che parlare di chi vince o delle belle battaglie si svolgono pista. Ultimamente ha aggiunto Bagnaia si parla troppo di cose che non sono di mia competenza. Sono un pilota, sono innamorato di questo sport e il mio unico obiettivo è vincere le gare e lavorare con la mia squadra. Parlo solo di sport, che è quello che conosco meglio, e il resto lo lascio agli altri. Sono stanco di dover giustificare ogni parola estrapolata dal contesto come pretesto per aprire una polemica.